Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Alle tre bis tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna, chiusi gli svincoli di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano Sud. Sulla Grosseto Fano fino alle 18 di oggi è chiuso per lavori lo svincolo di Montagnano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!